Retrocausalità, Giuliano Ricci. Illusione, follia, forse. I colleghi di Alain lo avevano sempre definito un mezzo pazzoide. Trovavano interessanti le sue ipotesi scientifiche ma bizzarre e argomentabili solo in discussione di fisica teorica. Alle sue spalle sorridevano degli sforzi da lui compiuti per dare un risvolto pratico a tali idee. Così aveva tenuto nascosto quel suo ultimo progetto, quello che lo avrebbe fatto definitivamente sprofondare nel più oscuro abisso del ridicolo. Stavolta era proprio fuori dalle righe. Nonostante l'evidenza, per lui il tempo non procedeva in un'unica direzione. Giorno dopo giorno gli uomini constatavano il progredire di una linea che si estendeva dalla nascita alla morte, dal passato al futuro. Tutti erano vittima di questa geometria dell'esistenza, universo compreso. Alain non lo credeva. Il tempo era eterno. Esisteva da sempre, già prima del Big Bang, e sarebbe sempre esistito. Si intrecciava con lo spazio a formare il tessuto dell'intero creato, ma poteva essere presente anche senza di esso e costituire una realtà a sé stante. Da questo presupposto si poteva stabilire un principio di retrocausalità. Non era solo il passato a gettare le basi del futuro, ma anche il futuro era in grado di determinare il passato, coesistendo con esso. Inoltre appariva possibile spostarsi nell'uno o nell'altro attraverso il presente, esattamente come un pendolo che oscilla avanti e indietro passando per un centro di simmetria. Le sue convinzioni derivavano dal mondo della meccanica quantistica, dove tutto era reversibile e il tempo non aveva una direzione. Solo per gli oggetti di grandi dimensioni compariva tale costrizione, ma le leggi della fisica non negavano in assoluto la possibilità di procedere a ritroso nella catena degli eventi. Stabilivano solo che era altamente improbabile. E Alain quel limite l'aveva superato grazie a un marchigegno da lui ideato e costruito. Una pedana metallica di circa mezzo metro di diametro, alta una decina di centimetri e stipata di circuiti all'interno. Adesso gli si prospettava una scelta difficile. Doveva dare la notizia al mondo, ricevere i meritati riconoscimenti e vedere impallidire i malfilati colleghi? O aspirare a qualcosa di molto più grande e irraggiungibile per l'uomo? Non la gloria eterna, ma la vita eterna. Se il passato e il presente erano ecchi del futuro, qualsiasi fatto entità esistente in un momento a venire, ancora lontano, poteva influenzare gli anni che lo precedevano. La retrocausalità. Ecco la sua illusione, la sua follia. L'idea era quella di proiettarsi in avanti di qualche secolo, compiere un'azione che rendesse determinante la sua presenza e tornare indietro. In quel modo si sarebbe generata una variazione nel corso degli accadimenti normalmente previsti, non calcolabile e insondabile, ma che gli avrebbe permesso di sopravvivere fino all'evento da lui stabilito col salto temporale. La sua esistenza doveva trascinarsi per forza fino a quel punto. Forse costretto a nascondersi, avrebbe cambiato aspetto e nome, ma sarebbe arrivato fin là. Purtroppo il varco che il suo genio riusciva a superare era di centocinquanta anni. Niente però gli avrebbe impedito di ripetere l'esperimento. Alain optò per l'eternità e salì sulla pedana. Si chinò, appoggiò l'indice su una piccola lente per il riconoscimento dell'impronta digitale e, mentre si alzava, la sequenza di attivazione iniziò. Terminato il primo livello, un braccio metallico fuoriuscì dal perimetro del disco d'acciaio e un raggio verde si proiettò verso l'altro. Lo scienziato si piegò in avanti fino a incontrare la luce con gli occhi ed effettuare una scansione retinica che produsse lo sblocco della seconda fase. In un attimo la base del marchigegno si aprì in cinque parti composte da circuiti, parti vetrose e cilindri rotanti di leghe iridescenti. Tutto il suo corpo fu circondato da cerchi luminosi, lampi accecanti e turbolenze livide. Alain tremò per il timore dell'ignoto, del fallimento e dello spettacolo innaturale delle forze da lui scatenate. Si ritrovò in una stanza conosciuta, al terzo piano dell'istituto di fisica e scienze avanzate dove lavorava. L'arredamento era completamente mutato, strumenti molto più raffinati, miniaturizzati e potenti. Davanti a lui su un bancone in sospensione magnetica stava la sua creazione, chiusa e disattivata. Uno scanner ne percorreva minuziosamente tutta la superficie e un computer ne riproduceva l'immagine in un ologramma tridimensionale. La porta del laboratorio si aprì ed entrò un perfetto estraneo. «Finalmente, Stefan!» esclamò. «Ti sono stato molto impegnato». Si scusò Alain cercando di sostenere la parte. «Non ti offendere, ma ho richiesto il tuo aiuto perché solo la tua sfrenata fantasia può venire a capo di questo oggetto». «Lo abbiamo trovato nello scantinato e non riusciamo a comprendere il suo scopo. Non sappiamo neanche se sia funzionante». Alain appoggiò l'indice sulla lente della pedana attivando il marchigegno fino al primo livello e alla liberazione del raggio verde. Decise di non andare oltre. La sua azione era stata utile e la sua presenza sarebbe stata registrata nel futuro. «Come hai fatto?» chiese lo sconosciuto allibito. «Non lo so, ma questa luce mi ha bruciato e avrei bisogno di disinfettarmi», mentì lo scienziato tenendosi una mano falsamente dolorante. «Vado io a prendere il kit di medicazione», si offrì l'altro. «Tu non ti muovere e continua a studiare quell'aggeggio». L'uomo uscì dalla stanza in preda all'euforia, ma quando sarebbe tornato non lo avrebbe più trovato. Finalmente Alain era tornato al suo tempo. Era stata un'esperienza trionfante, ma anche terribile sotto certi aspetti. Aveva provato un forte senso di estraneità in quel laboratorio, come se il suo corpo nel futuro avesse perso solidità e adesione alla realtà. Si era sentito come un fantasma che cercava di prendere consistenza, avvolgendosi stretto nei teri del proprio sudario. Eppure non avrebbe esitato a ripetere l'esperimento. Adesso non restava altro da fare che aspettare gli esiti del suo gesto. 150 anni dopo. Stefan era salito al terzo piano dell'Istituto di Fisica e Scienze Avanzate, su richiesta di James. Quando era entrato nel laboratorio del collega, non lo aveva trovato e la sua attenzione era stata subito attratta dalla pedana metallica in studio sul bancone dello scanner tridimensionale. James entrò poco dopo nella stanza. Finalmente, esclamò, ti sei fatto aspettare. Sono stato molto impagnato, si scusò lo scienziato. Non ti offendere, ma ho richiesto il tuo aiuto perché solo la tua sfrenata fantasia può venire a capo di questo oggetto. Lo abbiamo trovato nello scantinato, c'è la tre e non riusciamo a comprendere il suo scopo. Non sappiamo neanche se sia funzionante. Stefan appoggiò l'indice sulla lente della pedana attivando il marchigegno fino al primo livello e alla liberazione del raggio verde. Decise di non andare oltre. Non riusciva a capire. Come hai fatto? chiese James salibito. Non lo so, ma questa luce mi ha bruciato, avrei bisogno di disinfettarmi. Mentì lo scienziato tenendosi una mano falsamente dolorante. Vado io a prendere il kit di medicazione, si offrì l'altro. Tu continua a studiare quel aggeggio. Il collega uscì dalla stanza in preda all'euforia, ma quando sarebbe tornato non lo avrebbe più trovato perché James se ne andò di corsa e rientrò nel suo laboratorio chiudendosi dentro. Aprì la cassaforte e tirò fuori i suoi disegni per la macchina del tempo. Nessuno sembrava aver toccato quelle carte, eppure il suo progetto era stato realizzato, addirittura ritrovato in uno scantilato. A meno che James non gli avesse mentito e lo avesse spiato per sottrargli la scoperta. Ma perché l'impronta digitale necessaria all'attivazione era la sua? Il collega non aveva neppure lontanamente immaginato un fatto del genere. Come era possibile? Inoltre, nel momento in cui aveva appoggiato il dito sulla lente, era sentito quasi invaso. Preda di una presenza estranea e ignota, uno spettro che lo artigliava con le falangi delle sue stesse mani. Forse la soluzione era nella cella 3. In quel buco sotterraneo vi erano un sacco di vecchi attrezzi in disuso e studi ormai superati di precedenti dipendenti dell'istituto. A maggior parte erano firmati da un certo Alain Dubois e con sorpresa, nella foto del tesserino di quell'uomo, vide l'immagine di se stesso. Preso da una forte ansia, Stefan buttò all'aria tutte le carte che riguardavano lo scienziato e trovò una busta, senza indirizzo ma con la data di quel giorno. L'aprì e lesse. Al me, futuro, so che esisterai e quasi ti vedo come un figlio. Probabilmente avrai sviluppato un progetto per la macchina del tempo. Lo avrai fatto di nascosto ai tuoi ottusi collaboratori, maturando la convinzione di poter ottenere la vita eterna. È un percorso da me già seguito, in un destino di fallimento. Le leggi della meccanica quantistica ci dicono che dovunque sia presente energia, anche in uno spazio vuoto, può nascere materia. Prima un solo protone, poi una cellula e infine un cervello umano. Col tempo può apparire una qualsiasi cosa, anche un altro te stesso, con la tua immagine e i tuoi segni distintivi, con lo stesso carattere e i medesimi desideri, con l'identico modo di pensare e creare. Così io sono morto nonostante i miei sforzi, mentre tu sei stato formato per essere me e compiere le azioni che io decisi. Per questo motivo sarai riuscito ad attivare la pedana metallica e ti sarai posto mille domande. Ti svelo quindi che siamo solo fluttuazioni dell'esistenza, decise dalla retrocausalità. Un consiglio, se desideri l'eternità, non è questa la via. Non puoi imbrogliare il tempo né modificare l'esterno. Dovrai cercarla dentro di te, preservando la tua memoria e la tua essenza. Io l'ho capito troppo tardi, ma tu puoi ancora farcela. Hai tuoi anni a venire. Alain.